voglio raccontare un episodio che mi è successo con guatelli me ne è successo tanti altri ma però quello lì mi è rimasto in prezzo arrivato qua con la sua macchina con una bella ragazza giovane la prima volta che lo vedevo vestito dalla festa che sembrava un figurino francese è venuto giù mi ha fatto conoscere la ragazza e poi è sparito è sparito dopo un po che parlavamo con quella ragazza lì mi ha detto dove è andato Ettore e loro ci vado a vedere sono venuto qua era lì sotto che cercava delle cosine l'ho chiamato Ettore cosa fai lì ma ci sono delle quelle cosine tante belle che non li posso essere qua